ciao amici e amiche marco drums games non posso parlare perché mi hanno rubato i miei figli le cuffie quindi vi saluto e vediamo brave land insieme penso di arrivare alla fine del gioco il capitano pirata l'audio sarà tipo un megafono bruttissimo vi chiedo scusa e per questo che non parlo durante il video ciao amici e amiche no 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.